Lorenzo Marronaro, Ottoni e Marocchi, apre le marcature Monza al quarto, Poli in sacca su cross di Villa e Velo di Pradella. Giancarlo Marocchi, centrocampista. Sono Gisimo Ifredi e domenica sarò allo stadio con voi. Ciao ragazzi. Lorenzo Marronaro, sono passati 30 anni, 30 anni sono veramente volati. Sono emozionato come 30 anni fa. Ho piacere di trovarvi domenica allo stadio da Lava. Ci diamo un abbraccio, salutiamo i grandi tifosi del Bologna. Un abbraccio a tutti, 30 anni, 30 anni. Una delle squadre più belle della storia del Bologna. Grande calcio. Quindi ragazzi, rivederci domenica all'Ara per salutare i nostri tifosi sarà uno spettacolo. Io non so il larchero, io non so il terzinero. Un periodo dove ci siamo divertiti moltissimo e magari abbiamo fatto anche divertire la gente. Vi hanno emozionato, vi hanno divertito. Io non so il medianero. Una grandissima squadra e un pubblico meraviglioso. Io non so il puntero, so il capitano, so il capitano, so il capitano. E soprattutto si sono emozionati, si sono divertiti a giocare insieme. Oi la banda, oi che banda. Ci divertiremo un sacco. Già adesso mi viene da ridere a pensare di trovare tutti i miei amici, i compagni di squadra. Vedere i miei video è stato uno spettacolo. Però io non ho riconosciuto neanche uno dei miei compagni, quelli non sono i miei compagni, non so chi siano. Avete visto come sono ridotti? Probabilmente verremo con le nostre figurine in modo che ci riconosciate. Venite allo stadio per vedere cosa ha combinato il tempo su questi ragazzi. C'era un signore con pochi capelli, anzi con nessun capello e un po' di barbetta, di pizzetto. Eccoci. Dai aspettiamo tutti allo stadio, anche se non lo so se ci faranno giocare, speriamo di sì. Un altro con la gravata. Domenica presenti tutti. Un altro con i capelli Cacio e Pepe. Ci sarà la formazione al completo del 1987 che salì in Serie A. Io non ho mai giocato con quei signori. Ale, forza Bologna, ale, forza Bologna, ale. Ha una precisazione. La fascia sinistra, Monza, Marocchi e Marronaro, secondo me era decisamente più bella di quella destra di Luppi, Stringara e Fabio, Poli. Decidete un po' voi. Forza rosso-blu, 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 rosso-blu. Squadra bellissima, città bellissima da tornarci a piedi. Quindi pregherei l'organizzazione di controllare molto attentamente le persone che verranno domenica allo stadio. Mi raccomando perché tra di loro c'è qualcuno che non ha mai giocato a calcio. Per questa domenica al Dallara è onorare l'entrata in campo con voi campioni. Ciao ragazzi, ci vediamo domenica. Mi raccomando, tutti al Dallara. Ci vediamo tutti allo stadio. Ciao ragazzi. Vi aspettiamo tutti quanti domenica allo stadio. Un abbraccio. Ciao ragazzi, ci vediamo domenica. Un abbraccio. Ciao ciao. A domenica ragazzi, ciao. Arrivederci, ciao ciao ciao. Ciao ciao. Ciao un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao ragazzi, io sto a cuore. Che ne so, se vengo o non vengo. Ora vediamo. E sto qui con Franco. Franco, che devo fare? Vado. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao ragazzi, sono Claudio Ottoni. Non posso venire. Che me ne frega a me. Dai, ciao ciao. Ciao.